Carlo Maria Martini è il papa che non abbiamo avuto, l'uomo che ha saputo raccontare una chiesa particolare e vivere dentro la chiesa dalla parte degli ultimi, dalla parte di chi aveva sempre difficoltà. È un uomo che ci ha lasciato grandi parole perché era un esegeta, grandi dialoghi perché era l'uomo che lavorava al dialogo fra le culture religiose diverse, considerava ad esempio gli ebrei dei fratelli maggiori e ha cercato di vivere in terra santa molti periodi della vita, soprattutto l'ultimo periodo della sua vita. La sua opera è sconfinata, una cosa curiosa è che a 11 anni cercava una traduzione in italiano fatta bene del Nuovo Testamento, forse nemmeno lui sapeva che qualche anno dopo avrebbe scritto lui una traduzione in greco, una traduzione in latino e una serie di libri dedicati non solo al Nuovo Testamento ma anche dedicati a una chiesa che aveva bisogno di cambiare. Lui la cambiò soprattutto quando arrivò a Milano, da arcivesco cardinale di Milano, visse una stagione molto complicata. Arrivò nei giorni in cui le Brigate Rosse ancora uccidevano le persone e lui cercò da una parte di accarezzare i superstiti, le persone che avevano visto morire i loro cari e dall'altra anche di dialogare però con gli uomini del terrorismo per cercare non solo di convertirli ma anche di capirli. È un uomo che è sempre riuscito a parlare con una parte e con l'altra, con una profondità rara che ci resterà a lungo. Ecco, forse non è diventato Papa perché era troppo di sinistra, così si diceva al tempo, troppo dialogante, però le sue parole restano, restano ben al di là della sua vita terrena.